ciao bimbi essenziali ciao amici essenziali eccoci qua di nuovo per la nostra rubrica lab creatività infatti ci ritroviamo di nuovo insieme nel nostro spazio creativo ma cosa creeremo oggi diciamo che qualche indizio ve lo sto già dando perfettamente ebbene sì oggi realizzeremo insieme un piccolo unicorno con materiali di riciclo eccolo qua nel video tutorial che a breve pubblicheremo vi farò vedere tutti i passaggi per realizzarlo e i materiali che vi occorrono mi raccomando sono materiali di riciclo se anche non aveste tutto provate a ricrearli tipo i foglietti colorati se non li avete colorate delle strisce di carta e poi li tagliamolo insieme comunque seguite il video se vi è piaciuto mettete un like alla pagina e continuate a seguirci ed eccoci qua allora come prima cosa vi consiglio come sempre di proteggere il vostro piano di lavoro io utilizzo un semplice cartoncino dopodiché vi illustro quelli che sono i materiali che serviranno per il nostro unicorno allora dei foglietti di carta bianca dei foglietti colorati che nel caso in cui non abbiate potete tranquillamente utilizzare dei fogli bianchi colorarli con matite pastelli pennarelli quello che volete e poi li dovete ritagliare in striscette da circa un centimetro io per accelerare l'ho già fatto così ci serviranno ancora una forbice una matita un pennarellino nero della colla dei pennarelli colorati in questo caso io utilizzo i poldorelli della coin or ma voi potete utilizzare quelli che avete a casa e non ultimo per importanza un bicchiere che può essere o di carta o di plastica se ne avete ancora a disposizione ora iniziamo a lavorare il primo passaggio sarà quello di creare le orecchie del nostro unicorno prendete il foglietto di carta bianca e disegnate delle piccole di piccoli triangoli in questo modo aiutatevi con la base del foglio in maniera tale da tracciare delle righe abbastanza dritte fate delle mezze curve che si appoggiano poi alla linea del foglio 1 e 2 prendete poi un pennarellino rosa quello che avete a casa e fatte replicate nuovamente l'interno delle orecchie dell'unicorno come vedete il supporto serve per evitare di macchiare le tovaglie e fare arrabbiare la mamma una volta disegnate provvedete a tagliarle che le nostre orecchie sono pronte lasciatele da parte prendete uno dei foglietti colorati io utilizzo l'arancione e facciamo un ovale per ricreare il muso del nostro unicorno disegniamo due buchini per le narici e una mezza curva per fare un'espressione buffa provvediamo adesso a ritagliarlo perfetto altra cosa importante sarà creare il corno dell'unicorno in questo caso io voglio utilizzare l'azzurro quindi sempre appoggiando via la base del foglio fate un triangolo dunque ritagliatelo dunque abbiamo ritagliato la sagoma del corno ora per renderlo più credibile con un pennarello che può essere in questo caso un tono su tono io ho scelto il blu ricreiamo il movimento del corno con delle piccole onde da disegnare direttamente sopra il nostro triangolo e mettiamolo da parte recuperando il foglietto che abbiamo utilizzato per le orecchie ora creiamo gli occhietti prendiamo il pennarello nero e facciamo due ovali andando a lasciare all'interno delle palline bianche che poi andremo a colorare tutte intorno terminato di colorare provvediamo a ritagliare gli occhietti del nostro unicorno e mettiamoli da parte riprendiamo le nostre striscette di carta e arricciamolo esattamente come avremmo fatto con un nastro da pacchi quindi tenete l'estremità e con le forbici passate dalla più o meno base all'estremità mi raccomando se siete piccolini fatevi aiutare da qualcuno prendiamo ora il nostro bicchiere e iniziamo ad applicare tutte le componenti del nostro unicorno partendo dalle orecchie mi raccomando create una piccola distanza poi il muso più o meno al centro del bicchiere pertanto prendete un po' di ricciolini uniteli tra loro con la colla ed applicateli a metà tra le orecchie aiutandovi con il bordo del bicchiere prendete il vostro corno e applicatelo sopra i ricciolini in modo da coprire anche la posizione dove sono stati applicati prendete gli occhietti ed applicateli dove meglio credete facendo solo attenzione che siano abbastanza in linea tenete conto che essendo ancora morbida la colla può essere spossata fino a che non tirerà e ora tutti i ricciolini applicateli sulla base del bicchiere in maniera tale che facciano da criniera il nostro unicorno inizia a prendere forma ora non ci resta che applicare la coda con la stessa modalità con cui abbiamo fatto il ciuffetto uniamo tra di loro alcuni riccioli e applichiamoli sul retro del bicchiere esattamente così per coprire il punto di unione creiamo un piccolo cuoricino come? allora prendete un fogliettino colorato piegatelo a metà e utilizzando il bordo interno disegniamo con la forbice un mezzo cuore così e voilà aprendo ecco qua il vostro cuoricino intero colla e andate a coprire il punto di applicazione della coda ora il nostro unicorno è realmente finito bravi ottimo lavoro e allora vi siete divertiti a ricreare il vostro unicorno? se così è stato mi raccomando scattate una foto pubblicatela sui social e taggate l'essenziale cartoleria in modo che si possa vedere quanto siate stati bravi se avete voglia noi siamo disponibili ad esporre il vostro lavoretto in negozio per far vedere ai nostri amici essenziali quanti bimbi si sono divertiti con il nostro lab creatività per qualsiasi cosa e per i materiali sapete dove trovarci vi aspettiamo ciao ciao